Arrestate quattro persone per furto aggravato ai danni di due supermercati a Barcellona Pozzo di Gotto. Sono stati i carabinieri della compagnia barcellonese a far scattare le manette intervenendo a seguito di due distinte segnalazioni nel giro di poche ore per episodi comunque non connessi tra loro. I furti hanno riguardato il supermercato Eurospin, sito lungo la statale Oreto, ed il supermercato Hard Discount di Piazza Pertini. Per il primo caso le manette sono scattate ai polsi di Antonino Galeota, 61 anni, e della moglie 51enne Giuseppina Fazio, entrambi di Torregrotta. È stato un carabiniere di Fondachello Valdina, libero dal servizio, a sorprendere i due nella tarda mattinata di ieri all'interno del supermercato lungo la statale Oreto. I coniugi erano intenti a rubare la merce dagli scaffali nascondendola sotto gli indumenti. Scattata quindi la segnalazione alla compagnia barcellonese, i militari hanno bloccato i due condotti, dopo le formalità di rito, presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima. Il secondo furto si è invece registrato nel primo pomeriggio. A finire in manette i cugini Concetta Lazzarotto, 55 anni, e Vincenzo Schidirò, di 33 anni, è stato un addetto alle vendite dell'hard discount di Piazza Pertini a sorprendere i due mentre tentavano di rubare, nascondendole in due borse, diverse bottiglie di superalcolici e allertare i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno quindi constatato che la donna si trovava in atto sottoposta agli arresti domiciliari, ragion per cui, oltre al furto, è stata contestata a suo carico anche l'evasione. Per i due cugini sono dunque scattati gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.